È un girone sicuramente duro, però preferisco pensare che la Spagna a questo sorteggio per noi deve essere uno stimolo per affrontare una delle squadre che sicuramente in questo momento sono i migliori al mondo però sono anche convinto che possiamo dire la nostra e possiamo fare delle buone cose. Sulla carta sembrano favorite Italia e Spagna, anche perché c'è l'Albania che sta facendo grandi cose nella fase di qualificazione agli europei quindi penso che abbia grandi chance di qualificarsi per la fase finale. Sulla carta penso che le due squadre che hanno maggiori chance di andare avanti siano Italia e Spagna, però rimane poi il campo. Noi abbiamo un percorso da fare che inizierà adesso a settembre e ci deve portare poi alla fase finale dell'europeo possibilmente un percorso di crescita e già l'europeo io penso che l'Italia comunque possa già dare delle risposte.